sole e pelle amici o nemici diciamo subito che il sole è fonte di vita e di salute già greci e romani ne conoscevano le proprietà terapeutiche e i benefici alla sua esposizione noi stessi il nostro mondo non esisterebbe senza il sole piante animali e l'uomo dipendono da esso ma se piante ed animali hanno un rapporto diciamo così già codificato con il sole l'uomo per certi versi ne fa un uso un po alle volte improprio ora a parte essere indicativo di carattere aperto e gioioso alcuni esponenti della razza umana che si espongono alle azioni dei raggi solari mutano virando verso un'altra specie una specie a sangue freddo e diventando così un tutt'uno con il lettino del mare ma questo non è proprio l'atteggiamento più corretto da tenere il sole preso in situazioni ideali in condizioni ideali fa bene però ci sono delle persone che hanno dei fototipi delle patologie che non possono esporsi al sole in maniera inconsiderata quindi bisogna che abbiano delle regole che rispettino degli orari nel senso la mattina fino 9 e mezza 10 insomma si può andare tranquillamente dalle 11 in poi 10 e mezza 11 in poi fino alle 2 2 e mezza sarebbe meglio evitare l'esposizione diretta continua ci sono dei cambiamenti nel dna che questi raggi solari vb vanno a fare che poi si rivedranno più avanti quindi le persone che hanno gli occhi chiari la pelle chiara e quindi che sono che si bruciano facilmente che non s'ambronzano evitate di andare in questi orari che dicevo gli altri possono andare sempre con una protezione sempre però con un certo criterio oltre i fototipi oltre la predisposizione i farmaci c'è anche la presenza di nei chi più ha nei più è particolarmente esposto ad avere melanomi quindi il neo cattivo che nasce malato si vede subito nel senso che l'accrescimento precoce il cambiamento precoce questo deve essere un campanello d'allarme si parla che oltre 50 nei danno un rischio altissimo di fare dei melanomi chi in famiglia ha avuto un episodio di un melanoma o di anche di baso cellulari di spino cellulare ecco anche in questo caso è bene che abbia molta cura nell'esporsi al sole le accortezze sono quelle di se uno deve esporsi per motivi di lavoro degli schermi solari un cappellino per chi non c'è i capelli non stare ad orso nudo fuori in quegli orari magari una magliettina leggera io credo che sia una cosa molto molto utile grazie grazie grazie